I carabinieri di Termoli l'hanno trovata riversa sul pavimento di casa, una donna di 56 anni picchiata dal figlio. Lui è un ragazzo di 25 anni che si trovava agli arresti domiciliari per altri reati di cui è accusato. Gli uomini dell'arma sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino che, allarmato dalle urla provenienti dalla casa, ha telefonato al 112. Una volta arrivati nell'appartamento, i militari hanno trovato la donna addolorante e sotto shock per le botte ricevute. La vittima è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Santimotio dove, dopo essere stata curata, è stata dimessa con 20 giorni di prognosi. Per il giovane, che stando a quanto hanno ricostruito i carabinieri, picchiava la madre per futili motivi, sono scattate le manette e ora si trova rinchiuso nel carcere di Lucera. Già in passato si era reso protagonista di episodi simili. La madre era già stata vittima della sua violenza, tanto che l'uomo era attualmente sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale, poiché ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari, lesioni personali e danneggiamento. Fondamentale in questo caso, evidenziano le forze dell'ordine, è stata la segnalazione dei cittadini. L'intervento dei militari ha infatti evitato che l'aggressione potesse avere un epilogo più grave.